jammer machine nata per il gesto esplosivo degli sport di squadra pesismo sprint e atletica leggera questa macchina consente una grande varietà di esercizi tra i più importanti si evidenziano in modo particolare slanci torsioni e flessioni degli arti jammer extension posizionare i piedi ben distanziati tra loro ginocchia semiflesse schiena inarcata maniglie davanti al petto esplodere in una completa estensione del corpo dalla punta dei piedi fino a braccia estese sopra la testa tornare in modo controllato alla posizione di partenza jammer squat overhead piedi arretrati rispetto alle maniglie dell'attrezzo braccia completamente distese sopra la testa schiena ben dritta eseguire una completa flessione sulle gambe mantenendo le braccia estese sopra la testa l'esercizio può essere eseguito anche con un solo braccio alla volta spinta monolaterale con torsione di fianco alla maniglia piedi ben distanti tra loro ginocchia semiflesse impugnare la maniglia per esplodere nella rotazione del busto e contemporaneamente slanciare il braccio sopra la testa abbassare controllando il movimento sprint start afferrare le maniglie tenendo la gamba di appoggio leggermente flessa e la schiena diritta l'altra gamba sta dietro piegata con il piede appoggiato sulla trave bassa della macchina scattare in modo esplosivo portando il ginocchio più in alto possibile jammer extension shrug piedi distanti e ben posizionati corpo leggermente inclinato avanti braccia distese sopra la testa tenendo le braccia distese e bloccate sollevare le spalle nella classica scrollata il movimento deve essere veloce ed esplosivo jammer press stabilizzare l'appoggio al suolo ginocchia semiflesse e schiena ben diritta verificata la stabilità della posizione estendere le braccia sopra la testa l'esercizio può essere eseguito sia nella versione mono che bilaterale affondi e spinte raggiunta la posizione di massima stabilità in appoggio al pavimento esplodere nell'affondo con slancio contemporaneo del braccio verso l'alto continuare alternando sull'altro lato del corpo grazie a tutti